Non è strano questo sentimento che sento dentro di me? Io non sono uno di quelli che sono per raccontare bugie. Non ho molti soldi, ma se li avessi io ti comprerei una casa immensa. E vorrei dirci, vorrei dirci con te, che bella vita, una di tu, che è nel mio mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.